Ben ritrovati con il Comizio.it per parlare ancora delle elezioni comunali del 3 e 4 di ottobre, parliamo di Milano, lo facciamo con Marco Anguissola. Buonasera, buonasera a tutti. Marco Anguissola, candidato al Consiglio Comunale nella lista civica Luca Bernardo, Sindaco. Proprio di Luca Bernardo volevo parlare con lei oggi perché è una figura particolare molto diversa dal suo avversario, l'attuale sindaco, un profilo di una intensa umanità, è un medico pediatra che si è preso cura di tanti bambini e con questo approccio si relaziona ai cittadini milanesi. Lei che in queste settimane ha girato per Milano al suo fianco, che rapporto ha visto con i cittadini? No, ho visto veramente una persona che è in grado di ascoltare, che ha voglia di conoscere e capire i problemi dei milanesi, i problemi dei suoi concittadini e che è scesa in campo e si è messa in gioco per risolverli. Una grande, come ha detto lei, una grande umanità e non può essere diversamente per una persona che nella sua carriera ha curato migliaia di bambini e ha portato all'eccellenza un reparto importante come quello di pediatria del suo ospedale. È una persona che crede in quello che fa, che si è messo in gioco, che veramente vuole prendersi cura di tutti i quartieri di Milano, prendersi cura di tutti i cittadini, far diventare Milano più grande per davvero, far tornare la speranza, far tornare la crescita, far tornare la voglia a Milano di essere un motore economico d'Italia ed Europa ed è la persona giusta perché nella sua carriera professionale ha dimostrato di essere una persona concreta, un medico sa affrontare i problemi in maniera immediata e sono certo che appunto si prenderà cura della nostra città in maniera molto efficiente e con la sua grande umanità. Non dimentichiamo che è stato anche in prima linea come medico anti-Covid, ha dovuto affrontare come tanti suoi colleghi un'emergenza terribile dal punto di vista sanitario e da un punto di vista umano. Immaginiamo che questa esperienza sia stata molto importante per lui e sia un patrimonio che possa mettere a disposizione della città. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il periodo di Covid lui è stato in trincea come tanti medici che sono stati i nostri eroi di questi due anni e credo che anche questo i cittadini milanesi lo vedano e lo apprezzino tanto anche per questo, oltre per le sue appunto grandi capacità umane, la sua preparazione e le sue idee per la nostra città. Ed è per questo che anche io ho scelto di candidarmi nella sua lista civica perché credo fortemente in Luca Bernardo, credo fortemente nel progetto alternativo alla giunta sala che a mio avviso è totalmente ferma, immobilizzata, paralizzata da due anni a questa parte, quindi speriamo il 3-4 ottobre che i cittadini milanesi decidano di dare un cambio, un foglio di via a sala e di scegliere di ripartire, di far rendere Milano più sicura, più innovativa, più sostenibile, più vicina ai cittadini. Ecco, anche perché la lista Luca Bernardo è una lista civica, come abbiamo detto, ed è composta da professionisti come lei, da persone che sono abituate ad avere a che fare con i temi concreti. Come legge una campagna elettorale che si è sviluppata invece in termini un pochino ideologici e fatta anche di attacchi incrociati? Insomma, sembra che voi vogliate segnare la differenza con un'amministrazione sala che punta molto sulle tematiche politiche e ideologiche. Sì, la lista è composta da 47 persone professioniste del mondo della città di Milano che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per portare avanti questa alternativa alla giunta sala. Giunta sala che si nasconde o si fa forza di alcuni appunto grandi temi ideologici, parla di green, ma non fa nulla di green se non qualche pista ciclabile, sostenibilità, parla di accoglienza, abbandonando centinaia e centinaia di immigrati alla stazione centrale, al parco di palestro, eccetera, eccetera. Quindi sono grandi temi che vengono buttati lì a parole ma nei fatti non c'è nulla. Noi vogliamo veramente una Milano concreta, vogliamo una Milano che sia veloce, che sia pratica, che abbia idea di cosa fare, cosa lasciare ai nostri figli, cosa lasciare ai nostri nipoti e i 47 professionisti che sono in lista con me nella lista civica hanno questo in mente, credono fortemente nel programma di tutto il centro-destra e cercheremo di portarlo avanti fino all'ultimo. Senta Anguissola, io scorrendo la sua biografia ho visto che lei è stato presidente degli ex alunni del Leone XIII che è un'importante scuola cattolica milanese. Che cosa le ha lasciato quel percorso e che cosa può portare nella sua attuale esperienza politica? Sicuramente quel percorso è stato gli anni che più mi hanno formato, hanno formato il mio carattere, hanno formato la mia passione per l'impegno per la res pubblica e ne ho iniziato lì come rappresentante degli studenti, una cosa che quando penso a quegli anni amo ricordare che sul tema dell'impegno civico, dell'impegno politico è l'essere uomini per gli altri, un concetto che cerco di declinare nel mio impegno istituzionale e questo va al di là dello schieramento, essere uomini per gli altri vuol dire cercare di fare quello che si fa per il bene comune, credo che chiunque si impegni in politica a qualsiasi livello quello debba avere in mente, il bene comune, il benessere di tutta la comunità con delle ricette differenti, credo che nello schieramento in cui milito siano le ricette migliori ma comunque il bene comune, l'essere uomini per gli altri è quello che mi ha lasciato di più l'esperienza lì oltre a una grande esperienza educativa e formativa. Grazie Marco Anguissola, candidato al Consiglio Comunale di Milano nella lista civica, Luca Bernardo Sindaco. Grazie a voi, grazie a lei Dottor Pasini. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è con i prossimi approfondimenti del Comizio.it. Grazie a tutti.